I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo hanno rinvenuto la Fiat Panda in uso ai dipendenti del comune che era stata rubata una settimana fa dal magazzino comunale di Via Trapani. I militari dell'arma impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno notato l'auto parcheggiata in Viale Svizzera constatando che il numero della targa coincideva col mezzo da ricercare. L'auto era stata asportata la notte tra il 21 e il 22 febbraio dai gnoti che dopo aver forzato la serratura della porta d'ingresso del magazzino di Via Trapani si erano introdotti all'interno impossessandosi della stessa. Il mezzo rinvenuto dopo i rilievi del caso è stato restituito dai carabinieri all'ente comunale mentre proseguono le indagini volte a risalire all'autore del furto.